Sindaco di Piazza, Trieste è il primo comune d'Italia a rendere obbligatori i vaccini per potersi iscrivere agli asili. Certo, è molto importante prevenire e non curare, nel senso che è molto più facile prevenire. Facendo i vaccini possiamo prevenire questo. Avevamo dei livelli molto bassi di vaccinazione, questa priva dei problemi veramente seri. Sono ritornate in Europa delle malattie che erano state debellate, penso alla poliomielite, penso ad altre malattie, per cui è molto importante fare questo. Siamo stati i primi, ma perché ci teniamo ai bambini, ci teniamo a non avere problemi con i bambini.